E' stata pubblicata venerdì la determina che dà avvio al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 47 infermieri da destinare a tutte le aziende sanitarie ospedaliere della regione Marche. Ogni singola azienda del sistema sanitario regionale ha indicato le proprie esigenze e il numero dei posti da mettere a concorso. Sono ad esempio previsti 12 posti per l'azienda territoriale di Pesaro Urbino. Per l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini si tratta di una riforma importante perché prima i vincitori non conoscevano la loro destinazione. Ora invece ogni infermiere potrà partecipare alla selezione per una sola azienda e la posizione in graduatoria gli conferirà il diritto di essere assunto solo in quell'azienda territoriale provinciale. Secondo Saltamartini è stato un percorso appoggiato dai sindacati del comparto. La vede invece diversamente la politica d'opposizione col consigliere regionale Andrea Biancani che a fronte della buona notizia del nuovo concorso stigmatizza come siano state fatte scadere le vecchie graduatorie. L'errore di fondo è quello di aver fatto scadere la graduatoria degli infermieri il 5 di marzo di quest'anno quindi appena quattro mesi fa che queste graduatorie avevano una durata di due anni ma c'era la possibilità di prorogarle. Bastava che il governo prendesse atto che c'è la necessità come tutti sanno sia di infermieri che di OS all'interno della sanità marchigiana ma anche a livello nazionale invece si è preferito far scadere queste graduatorie e sia la regione sia il governo Meloni non hanno fatto nulla appunto per prorrogarle. Ricordo che avendo fatto scadere la graduatoria ora bisognerà aspettare il nuovo concorso che sia completato che siano fatte tutte le prove passerà sicuramente un anno e in quest'anno le aziende sanitarie non potranno assumere quindi persone a tempo indeterminato perché non ci sono graduatorie valide. Dall'altra parte c'è una scarsa sensibilità nei confronti di questi cittadini, di questi professionisti che hanno comunque fatto un concorso sono risultati abili al concorso cioè idoni alla possibilità di essere assunti e dopo appena due anni si sono visti scadere una graduatoria che poteva essere confermata. Un vero smacco per queste persone, per questi giovani che avevano tutto il diritto di poter invece vedere un futuro, di poter entrare subito in servizio e di poter mettere a disposizione la loro professionalità per la sanità marchigiana.